Anche al siamo ritornati anche per gli amici di Spreaker Radio Quindi Quindi Allora ci spostiamo a Shakhtar Perché recupera palla il Sevilla Vuole ripartere in velocità, in contropiede E' bellissimo contropiede per il Sevilla Quindi 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 Vi ricordo per il Sevilla ha segnato al sesto minuto Vitos e pareggia il ventidesimo Marlos Andiamo, continuiamo La nostra Diretta Continuando A dirvi Un po' di storia Delle due squadre Il cammino Di queste Due squadre Soriano Bacambu Non ho cercato Moreno Sato Fallo di Bacambu Viglia e Real Il Liverpool Sempre Zero Zero a zero L'opportuna Di Alberto Moreno Quindi Questa Stagione Per Bacambu Sono stati di grandi numeri Allora Stiamo Allora I Viglia e Real Sono riusciti A mantenere Inviolata Per Quattro volte Su sette La loro porta E ci Proveranno Anche Se il Liverpool Andrà in cerca Di un gol In Traspetta Perordiamo Lo Shakhtar Deve Battere con questo calcio d'angolo Il secondo corner Il Sevilla ne ha battuto uno Il Liverpool Non manca Nessun Calciatore Tra i 12 Cavocandonieri Della competizione Ma è andato In gol Ben 11 Con 11 Giocatori Diversi Quindi La squadra Di Dugain Crop È la sesta Rivale Inglese Per il Viglia e Real Gli spagnoli Capaci Di vincere Soltanto Due dei sette Incontri Casalinghi Contro le squadre Delle Premier League Qui Siamo stati Con Soriano A col sinistro Mario Gaspar Ture Grande Controllo Il V Viergo Moreno Sbaglia E la palla Va in Calcio d'angolo Si è messo Le mani Nei capelli Grande E Alberto Moreno Ma Impattare Allora I biglia e real Batte Tre Corner Liverpool Li ha Battuto Uno Il Crosco Destro Uscire A pallone A pallone Se non Se non La mette giù Lo Lo Santos Bajalancancio Servino Lo Santos Bacambu Uno contro uno a gambù circa Soriano bellissimo Allen a chiuderlo ha comunque temuto la velocità dei giocatori cosa dal termine Shakhtar Donetsk è in vantaggio quindi vi ricordiamo Shakhtar Donetsk 2 Viglia Real 1 quindi real e siamo con la chiusura con il panno laterale di club non ha mai vinto in Spagna Tore L'Operen Miller Miller Viglia Viglia Real Macambù soldato Leiva Ciro per Joe Allen il moco dentro Mille per Cermino Villar Viglia Real prova a ripartire Miller sta facendo un grande lavoro si gira Firminio Scudinio Serito compagnia Azione All Allora il gol di Stefanko dello Shakhtar quindi Shakhtar in vantaggio di diciamo come è stato il gol colpo di Tessal in Cedere centrocampi su Caino che a due passi batte in parabilmente Soria cross è stato del autore del gol del 1-1 Marlos adesso al quarantesimo è stato ammonito carico dello Shakhtar su aio contro il bigliarial di dove 7 mesi allora andiamo torruis come costa victor ruiz bigli scambio 3-2 centrali la lana a bigli spar cerca il destro Gianna riesce a metterla giù Soriano verticale Soriano destro soldato pallone che termina di pochissimo al lato terza al lato di Miole si coordina immediatamente destro al giro grande Miole carezzato soldato prima stagione per lui che è il sveglia real l'ultimo 5 di novembre l'aggancio di soldato quindi 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 Miller c'è 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 allora ricopre il bigli real in velocità vantaggio l'opera allora Shakhtar 2 Siviglia 1 ci spostiamo allora Oblianca cerca l'ipertenza di Malish spazza via quindi Shakhtar Donetsk Siviglia una grande partita siamo al 44esimo minuto tutte le due le squadre Baglia il Viglia allo Shakhtar Donetsk può ripartire velocemente in contropiede un contropiede non scatenato benissimo l'equilibrio sul pallone vuole ripartire il Viglia Real faccia giocare l'arbitro perché a Viglia Real dà il vantaggio danno due minuti di recupero intanto per il primo tempo tra Shakhtar Donetsk e Siviglia lo Shakhtar Donetsk i padroni di casa sono in vantaggio ad uno ancora perfetta butta in mezzo a campanile ci prova sbaglia il giocatore dello Shakhtar Donetsk siamo al 45esimo appena entrati a Viglia Real vediamo quanto di Sarai recuperò qui è quasi finito il a Shakhtar Donetsk il primo minuto di recupero qui un minuto soltanto mentre l'altra ball è Liverpool è finito il primo tempo 1 a 1 qui sta quasi per terminare troppo soppia dopo Siviglia il Siviglia vuole finire il primo tempo pareggiando ma è difficilissimo ma è difficilissimo quindi allora Shakhtar Donetsk Siviglia finisce 2 a 1 per i padroni di casa lo Shakhtar Donetsk quindi 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 grande partite noi diamo i voti allora Viglia Real e Liverpool 0 a 0 il Viglia Real la squadra di casa sta facendo benino non sta riuscendo in una grande impresa mentre la squadra la comunque il Liverpool ha fatto una grande partita quindi quindi siamo tanto merito un po' a Liverpool perché ha attaccato il voto del Viglia Real è 7 e mezzo per la squadra squadra per il la squadra del Liverpool 8 perché ha attaccato tanto per l'alleatore del Viglia Real Marcellino Garzia Toral la partita la partita ehm Viglia Real un grande gioco iniziale poi per tutte quelle azioni lo svantaggio si prende un bel altra partita Shakhtar Donetsk per gli amici che ci seguono su Spreaker ci ritriamo nel secondo tempo per gli amici di Youtube un po' di pausa e poi torniamo con lo torniamo per riepilogare le partite per gli amici di Youtube per gli amici per gli amici scusa ci siamo nel secondo tempo per gli amici per gli amici per gli amici di Youtube di Youtube